Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Miller's Girl, film che non mi sarei mai aspettato di andare a vedere in sala, sinceramente, perché non è esattamente il mio tipo di film, però mi trovavo lì per caso. Ho visto Jenna Ortega e sono entrato. In sala, ovviamente. Eh sì, in realtà il film dà un po' le vibes da una fanfiction scritta da qualche ragazzetta su Wattpad, un po' in stile after. Ma al contrario delle mie aspettative, anche se poche, perché comunque non ho mai visto un trailer, ho letto solamente la sinossi più o meno. Oltre alla fanfiction potrebbe esserci dell'altro. Forse ad aiutare potrebbero anche essere gli interpreti, perché abbiamo Jenna Ortega che è super carismatica in questo film, svolge il ruolo della femme fatale in modo abbastanza convincente e dall'altra parte abbiamo Martin Freeman, un grande attore comunque, che anche in questo tipo di film è riuscito a farsi valere. Oltre alla storia un po' fanfictionare abbiamo anche altro, appunto, anche visivamente. La fotografia ha un che di accattivante, soprattutto in alcuni frangenti della parte iniziale del film e mi stupisco a dire ciò perché appunto io mi aspettavo di vedere qualcosa in stile after, 50 sfumature di grigio, non lo so, una cosa del genere. Invece mi sono ritrovato davanti un film che cerca in qualche modo di essere sofisticato e di innalzarsi a qualcosa di superiore invece che il solito thriller erotico. Diciamo che non ci riesce completamente ma si apprezza lo sforzo. Non ci riesce anche a causa di alcune scelte, soprattutto nella parte iniziale del film, in cui vediamo degli atteggiamenti dei personaggi principali naturalmente un po' troppo frettolosi. Non saprei come dire senza fare spoiler, poi ci sarà una parte con spoiler verso la fine del video. La dinamica tra i due potrebbe sembrare anche un po' scontata, ma proprio come il titolo, Miller's Girl, potrebbe anche essere ambivalente. Infatti il film appunto si chiama Miller's Girl, fa riferimento al personaggio di Jenna Ortega, questa Cairo Sweet, mentre il professore con cui instaura questo rapporto insano al limite della moralità ma soprattutto della legalità, un uomo insoddisfatto sia dalla vita sentimentale che dalla vita lavorativa, che di cognome fa Miller. Ma il titolo non si riferisce solamente a questo, anzi forse non si riferisce proprio a questo, col senno di poi continuando la visione del film. Perché all'interno della storia entra un altro personaggio che non compare, ma viene citato tante volte, ed è un personaggio esistito realmente, ormai morto da più di quarant'anni, e sto parlando di Henry Miller, scrittore di romanzi, soprattutto erotici, a cui il personaggio di Jenna Ortega si ispira proprio per creare il suo progetto per l'università che inizierà a distruggere un po' il tutto. Credo sia abbastanza ovvio che Miller's Girl si riferisca più a Henry Miller che a Jonathan Miller, adesso non ricordo come si chiami di nome il personaggio di Martin Freeman. Come ho già detto, Jenna Ortega interpreta la Femme Fatale, lo fa anche abbastanza bene, e dall'altra parte abbiamo lo stesso Freeman che interpreta la perfetta vittima di ciò. Posso dire che tutto quello che circonda i due è un po' superfluo, sì, abbiamo un'altra versione della stessa dinamica con altri personaggi sullo sfondo, che poi sì, in qualche modo si rivela utile ai personaggi, ad un personaggio soprattutto, ma mi è sembrato come togliere un po' spazio, diciamo, alla storia principale. Il film stranamente non si concentra solo su questo rapporto malsano tra professore e studentessa, ma si parla soprattutto di amore, e no, non parlo dell'amore tra i due personaggi perché in questo contesto non c'è amore. L'amore che vediamo nel film è verso la cultura e la letteratura, e entrambi i personaggi sono innamorati della parola scritta. Ed è anche per questo che secondo me il film cerca di elevarsi a qualcosa di più, in confronto a tutti gli altri prodotti stile fanfiction Wattpad. Nonostante a un certo punto si capisca dove il film voglia andare a parare, qualche elemento lo trovo anche alquanto imprevedibile e sorprendente, sempre nel piccolo cerchio di questo Miller's Girl, che non è esattamente uno dei migliori film che abbia mai visto, eh. Sembra che ne stia parlando positivamente, ma non è che mi sia piaciuto. Forse perché, come ho detto all'inizio, non è il tipo di film che andrei a vedere in sala. Dico che non è tutto sto gran film perché alcune scelte prese sono sicuramente tanto facili, però il finale è comunque messo in scena in modo interessante. Alcune scene del finale, sicuramente. E una delle cose che mi è piaciuta di più è che il film verso il finale riesce a lasciare un dubbio allo spettatore. Poi ne parliamo nella parte spoiler. Chiudendo, non stiamo parlando di un bel film. È un filmetto che per essere comunque un debutto non è malaccio. Ha alcune scelte intriganti, altre un po' troppo facili. Una coppia di attori ben calata nel ruolo, veramente mi sono piaciuti. E nonostante alcuni momenti un po' troppo troppo facili, altri forse un po' troppo fuori luogo, credo che il film riesca in parte a svolgere il suo compito. C'è persino una sorta di tensione che si crea verso le paure del personaggio di Martin Freeman, non con passione sicuramente perché entrambi i personaggi sono negativi. Entrambi sbagliano fin dall'inizio e il personaggio di Martin Freeman diciamo che non ha per niente il coltello dalla parte del manico ma forse ha direttamente la lama sullo sterno. Jenna Ortega arriva ad essere odiabile, soprattutto con lo sviluppo del personaggio e niente, questo era il mio pensiero senza spoiler di Miller's Girl. Adesso se non avete visto il film vi invito ad uscire dal video perché gli spoiler inizieranno fra poco, però come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta e niente, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Uno dei problemi di questo film è che il rapporto tra i due si crei un po' troppo facilmente, infatti all'inizio il personaggio di Jenna Ortega Kairoswitt non vuole farsi convincere dalla sua amica Winnie che sedurre diciamo senza appunto interesse romantico il professore sia una buona idea, però poi accetta e il professore ci casca subito. Questa cosa non è che mi abbia fatto impazzire così tanto, contando che iniziano fin da subito a leccarsi le facce, no scherzo, c'è solo un bacio in realtà all'interno del film che arriva a più di metà della durata e in qualche modo è anche significativo per il dubbio che viene poi insinuato nello spettatore. Il rapporto tra i due potrebbe svilupparsi in modo migliore sì, ma ci sono alcune scene forse per la bravura dei protagonisti che mi sono piaciute, anche proprio a livello di linguaggio non verbale, linguaggio del corpo, che sia anche non so, il professore che si siede praticamente sopra la ragazza nonostante sul divanetto ci sia tantissimo spazio su cui sedersi per avere un contatto fisico. E altri momenti un po' più suggeriti, ecco questi momenti soprattutto fanno veramente a cazzotti con la prima parte del film in cui sì, bello visivamente, però la sceneggiatura si concentra troppo in dei momenti di flirt eccessivi per la prima parte del film appunto, per poi infatti presentarci un dimezzamento di questo Eros con delle scene un po' più, passatemi il termine, non è esattamente il giusto termine da usare, ma sofisticate appunto. Una cosa che sicuramente mi è piaciuta, come ho detto nella parte non spoiler, è il mistero che si va a creare a fine film. Kairos Wheat si rivela appunto la grande cattivona di Miller's Girl, nonché quella che dà il titolo al film, e non solo verso il personaggio di Martin Freeman, ma anche verso la sua migliore amica, innamorata naturalmente di lei, viene detto all'interno del film, la fa cadere in trappola, perché lei ha la stessa situazione con il professore di educazione fisica, se non sbaglio, e anche quello, anche se è molto meno di Miller, ci gioca un po' con la ragazza, quindi ci sono le chat, robe varie, e Kairos Wheat usa questo per ricattare la sua amica solo dopo aver fatto licenziare appunto il professor Miller. E questo lo fa solo dopo aver scritto appunto il progetto ispirato ai romanzi di Harry Miller, dove descrive il rapporto tra un professore e una ragazza. Questo potrebbe naturalmente mettere nei guai lo stesso Miller, che vieta a Kairos di mandare questo progetto, lei lo farà naturalmente, anche se ad una certa sembra che Miller apprezzi, e lo vediamo fare certe cose durante la lettura di quel saggio, ed è proprio per questo che a fine film poi nasce il dubbio nello spettatore. Quello che c'è scritto lì è successo realmente, o comunque è ispirato veramente alla realtà, o è semplicemente l'immaginazione di Kairos che, da quel semplice bacio che sappiamo essere successo realmente davanti a casa della ragazza, ha creato appunto tutto il racconto per... adesso non ricordo, è strano, non ricordo che venga detto all'interno del film se il suo obiettivo fosse quello di far licenziare il professore, non credo, però sicuramente si arrabbia dopo che lui le vieta di mandare questo questo saggio all'università. Il dubbio dello spettatore sta soprattutto nel momento in cui la preside parla sia con la ragazza che con il professore e chiede al professore se lui fosse mai entrato a casa di Kairos. Noi effettivamente all'interno del film, in scena, lo vediamo a casa di Kairos che inizia a fare roba. Ci sono diciamo dei preliminari, ma quello che vediamo almeno fino alla fine del film dovrebbe essere solo quello che c'è scritto nel saggio, completamente inventato da Kairos. E se in realtà non fosse così, dato che durante l'interrogatorio, diciamo così, della preside lui tentenna sulla risposta sì sono entrato a casa sua, no non sono entrato a casa sua. E se quello che abbiamo visto in realtà è successo realmente, quindi lui va veramente oltre quel rapporto di flirt e quel piccolissimo bacio. Questo mistero e quella tensione grazie a Martin Freeman in quella scena mi hanno fatto un po' più apprezzare il finale. In chiusura, ripeto ancora una volta che non è assolutamente un gran film, cerca di giocare su molti elementi per distinguersi dalla massa di questo genere di film, non ci riesce completamente. Comunque, se avessi la possibilità di tornare indietro non rivederei questo film in sala, però comunque non ho avuto l'impressione di perdere tempo come, non so, un after o un 50 sfumature di grigio. Ragazzi, se avete visto il film fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per un paio di calze gratis e scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!